La determina dirigenziale è attesa per oggi a Palazzo San Francesco, mentre il cantiere materialmente potrà aprire da lunedì 4 ottobre. Per via del Cavallaro e via Don Bosco finalmente si vede la luce dopo anni di protesta, interventi sbagliati, fiumi di annunci che altro non hanno fatto che esasperare i residenti della zona. Gli interventi da 60.000 euro riguardano il rifacimento della rete fognaria che recentemente ha recato diversi problemi a residenti nelle giornate di pioggia incessante. Nelle scorse settimane il portavoce del quartiere Fidio Bianchi si recò a Palazzo San Francesco con una tannica di liquami in segno di protesta. Abbiamo reperito i fondi e dato l'incarico per il progetto per sbloccare un'annosa situazione, spiega l'assessore comunale Salvatore Zavarella. Una situazione che va avanti ormai da sette anni, che ha coinvolto le due amministrazioni che si sono succedute. Dopo aver costituito un comitato spontaneo, stanchi di aspettare il comune, i residenti si erano rivolti alla ASL, interessando che non è esposto anche la procura della Repubblica. A dire il vero, negli anni passati il comune aveva messo mano la situazione, incaricando una ditta di sistemare le fognature e la strada, lavori che per mancanza di fondi non sarebbero stati mai ultimati, con il risultato di avere casi e scantinati invasi, ogni volta che piove, dai liquami. Risorse economiche e lavori, va precisato, come rimarca il vice sindaco Marina Bianco, sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, già a marzo 2021, dalla scorsa primavera i lavori erano programmati.